Il segreto, trame febbraio, Nazaria viene declassata alla pari di felle trame di febbraio e il segreto rivelano che donna Francisca deciderà di dare una lezione alla moglie di Mauricio. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la sua avopera, che ha appena anticipato la pace tra Emilia e Raimundo nelle puntate dal 27 al 29 dicembre, le ultime novità ci svelano, che donna Francisca deciderà di dare una lezione a Nazaria in seguito al suo comportamento troppo altezzoso. Anticipazioni Il Segreto, donna Francisca dà una lezione a Nazaria alle anticipazioni delle nuove puntate di Il Segreto in onda a febbraio su canale 5 e Cisvelano, che Nazaria sposerà Mauricio per procura, come ricorderete Francisca Montenegro obbligherà Godoi a sposare una sua presunta cugina di nobili origini, tanto che quest'ultimo non potrà rifiutare l'allettante proposta. Dagli ultimi spoiler si evince, che il vecchio locandiere non potrà fare niente per far cambiare idea alla Dark Lady, mentre Fessi corroderà il fegato dal dolore. Purtroppo le cose peggioreranno quando la Gorostigia giungerà a Pente Dieio, in qualità di moglie di Mauricio Godoi, cui renderà la vita di te un vero inferno, tanto da cominciare a maltrattarla ed umiliarla di continuo, infatti costringerà te a lavare due volte gli abiti del suo sposo, dopo averli gettati a terra con disprezzo. Purtroppo, possiamo anticipare che Nazaria compierà un passo falso, quando sottrarrà uno scialle all'emporio di Dolores. Infine la madre di Ippolito racconterà in giro, che la cugina di Francisca è una ladra, tanto che la voce giungerà alla casone. Che cosa accadrà, il segreto, puntate febbraio, Francisca declassa Nazaria governante dalle anticipazioni delle puntate di febbraio della telenovela iberica, scopriamo che la Dark Lady riprenderà aspramente il comportamento di Nazaria, esigendo un suo cambio di comportamento, se non vuole essere ributtata nel fango. A questo punto Nazaria terrorizzata dalle minacce della Montenegro pagherà la mantella rubata, tanto da scusarsi con il neo marito per averlo messo in difficoltà con la padrona. Dalle ultime novità si apprende che la vendetta di Francisca non si fermerà qui. Infatti deciderà di declassare a Nazaria alla pari di Fe, tanto che sarà costretta a fingere di accettare la punizione con il sorriso sulle labbra. Possiamo anticipare che Fe e Nazaria cominceranno a lavorare vicine vicine, tanto che gli abitanti di Puente Dieo si domanderanno il perché di tanta cattiveria nei confronti di una parente. Precisiamo che la moglie di Mauricio assumerà un comportamento remissivo, tanto da comportarsi educatamente con la rossa fuoco. Infine i telespettatori scopriranno che Fe sarà costretta a prendere una decisione, chi le cambierà il corso della vita. Per altre anticipazioni su Il Segreto non vi resta che cliccare il tasto Segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore, Serie TV Anticipazioni Il Segreto. Grazie a tutti.